Un saluto a tutti gli appassionati di ciclismo e benvenuti sul canale Il Ciclista Anonimo. Siamo sul videogame Tour de France 2024 per un nuovo episodio della serie sul Pro Team con la VF Bardiani, CSF la Bardiani. Dopo le prime due corse, l'altri giorni della Provenza e la Pariginizza, non siamo messi male nella classifica Pro Cycling a squadre, siamo quarti con 190 punti. Vi ricordo che l'obiettivo è piazzarci tra le prime 18 squadre per diventare un team di livello World Tour ed essere così invitati a tutte le corse, a tutte le classiche monumento e anche al Tour de France. Andiamo avanti, come vedete adesso ci sono tutte le classiche monumento, primavera classica sarebbe la Milano Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e Liegi-Bastogliegi. Non siamo invitati, per essere invitati nella prossima stagione dovremo piazzarci almeno al diciottesimo posto nella classifica Pro Cycling a squadre. Nella realtà la Bardiani, essendo una squadra italiana, viene invitata alla Milano Sanremo, ma nel gioco no. Quindi simuliamo queste corse e ci vediamo alla Braids Cup. Quindi simuliamo e ci vediamo più avanti. Ok, siamo arrivati alla Braids Cup, la Liegi, la Vinte Venepul, la Parigi-Roubaix-Wanderpoel, il giro delle Fiandre, Van Aert e la primavera classica, la Milano Sanremo, il Gior di Meus della Borans Grohe. Siamo arrivati alla Braids Cup, la nostra squadra è questa qui, Conforti, Gabburo, Colnaghi, Marcellusi, Fiorelli, Zanoncello. Non portiamo Pozzo Vivo perché non è in condizione, ma soprattutto perché non è un percorso adatto alle sue caratteristiche, non è un percorso per scalatori, però forse il Pozzo al posto di Gabburo lo porterà. Andiamo ad impostazioni, difficoltà leggenda, cadute con ritiri, preparazioni attivate, infortuni in gara rari, le cadute con ritiri e le malattie brevi. Iniziamo questa Braids Cup, che dovrebbe essere la versione farlocca del Tour of Britain, presumo. Gabburo, vediamo, accelerazione 69, volata 65, Marcellusi potrebbe essere il capitano insieme a Zanoncello. Fiorelli, che è anche abbastanza veloce, molto veloce, potrei utilizzarlo per vincere i GPM magari, perché ha anche delle buone doti da collinare, mentre al posto di Gabburo potrei portare Pozzo Vivo, ma Gabburo è in ottima condizione. Involata è un po' fermo, qua sono un po' indeciso ragazzi, 65, ma sì, Gabburo magari lo togliamo e buttiamo dentro Pozzo Vivo. Gabburo è buono come Pavè. Mettiamo dentro Pozzo Vivo, non si sa mai potrebbe servire e vediamo con chi andare in fuga per vincere la classifica GPM. Magari con Colnaghi, sono un po' indeciso ragazzi, molto molto indeciso, perché Fiorelli, Colnaghi tengono tutti. Andiamo con Fiorelli, andiamo con Fiorelli per le fughe. Prima tappa devo dire che è abbastanza piatta, molto piatta, quindi ci sarà sicuramente un arrivo in volata. Quasi quasi non manderei in fuga nessuno, però anche la classifica della combattività, vincerla per noi sarebbe utile, in quanto porta comunque dei punti. Quindi magari ci buttiamo in fuga con Fiorelli e ci rialziamo, o magari con Colnaghi. Però Colnaghi è scarso in salita. Vediamo, andiamo con Colnaghi. E nel finale ce la giochiamo con Fiorelli e Zanoncello per la volata, che sono parecchio veloci e sono anche in condizione. Quindi prendiamo Colnaghi, parte la tappa, siamo un po' chiusi da Tijbeno, che è un avversario tosto, e ci buttiamo in fuga cercando di portare a casa dei punticini. Sei chilometri alla conclusione, ci avviciniamo alla volata che disputeremo con Zanoncello. Vediamo se Fiorelli riesce a risalire un po' insieme a noi, perché potrebbe darci una mano nel finale se è tecnico con delle curve. Provo a guadagnare posizioni, ma è dura. Li metto sulla ruota di Nasen. Qua c'è anche questo corridore delle F che ci dà un po' fastidio. Fiorelli però si è fatto chiudere, invece dovrebbe risalire un pochettino Filippo Fiorelli. Vediamo. Quattro chilometri, niente. Fiorelli non riesce a risalire, quindi proverei a dirgli di attaccare. Vediamo se attaccando riesce ad andare sulla ruota del nostro Zanoncello. Dovrebbe partire adesso. C'è la curva. Io provo ad andare insieme a Fiorelli. Provo ad andare insieme a lui. Un attacco di coppia, perché ci sono queste curve da prendere davanti. Potrebbe essere la mossa giusta. Siamo sulla ruota di Fiorelli. E adesso prendo anche tutto il gel rosso con Zanoncello. Abbiamo guadagnato un discreto vantaggio. Dico a Fiorelli di tirare al 100% e di prendere il gel rosso. Siamo vicini all'ultimo chilometro. Dietro sopraggiunge il gruppo. C'è la curva. Quindi dico a Fiorelli di attaccare. Ma attacchiamo anche noi con Zanoncello, perché c'è la curva che va presa assolutamente davanti. Va presa assolutamente davanti con Zanoncello, che è lanciato verso la vittoria di tappe. E forse portiamo a casa una fantastica doppietta. Sì, Zanoncello vince la tappa. Fiorelli forse viene ripreso. No, doppietta ragazzi. Doppietta. Mamma mia che tappa. Mamma mia che tappa. Allora, doppietta con il team Bardiani. Come vedete, anche a difficoltà leggenda, approfittando delle curve, si riesce a vincere facilmente. Perché la CPU non è all'altezza, quindi è un po' un bug di questo gioco, un po' una debolezza di questo gioco. E un giocatore esperto come me, che gioca a Tour de France da tanti anni, riesce ad interpretare questi punti deboli del gioco. E sfruttarli a suo favore. Sapevo che c'erano due curve ad angolo nel finale, due curve strette. Le ho prese davanti e sono riuscito addirittura a fare una doppietta con dei corridori ovviamente in grande condizione. Fiorelli e Zanoncello. Il livello non è altissimo in questa Brits Cup perché c'è De Mar, Gaviria, che sono sì dei velocisti buoni, ma oramai a fine carriera non sono più forti come in passato. Cocard, Maresco, Trentin, Sam Bennett, Cavendish. Sì, livello discreto ma non altissimo. Non ci sono Philipsen, Milan, Koi e Merlier per dire. Comunque, ottimo risultato. Zanoncello, oltre i 10 secondi di abbuono. Ha fatto anche un buco di 12 secondi, quindi è un ottimo vantaggio in classifica generale. In una breve corsa a tappe come questa Brits Cup che è composta da soltanto tre frazioni. Con Marcellusi abbiamo preso un punto al GPM finale quando la fuga è stata ripresa. Classifica punti, Zanoncello è nettamente davanti. Classifica squadra è bene Labbardiani. Combattività ce la giochiamo con Colnaghi e andiamo nuovamente in fuga anche nella seconda tappa. Attenzione, con arrivo sul Mur de Bretagne. Però quasi quasi io andrei in fuga con Marcellusi. Perché con Marcellusi abbiamo già un punticino. Però Colnaghi ci serve per la classifica della combattività. Quindi andiamo nuovamente in fuga con Colnaghi. E direi che ci vediamo nel finale sul Mur de Bretagne che è un po' tosto. Però abbiamo visto che Zanoncello su questi brevi strappetti riesce a tenere. Dovrebbe tenere anche Fiorelli e probabilmente anche Martin Marcellusi. Parte la tappa. Però siamo chiusi. Comunque parte la tappa. Andiamo in fuga con Colnaghi e ci vediamo nel finale. 10 km alla conclusione. Fuga ripresa. Attacca Wright insieme a Steuben. Quindi dobbiamo stare attenti. Qua c'è Marcellusi che dà una mano a Zanoncello e fa buona guardia. Dobbiamo coprire questi attacchi. Quindi teniamo alta l'andatura. Si muovono anche altri corridori come Vermesh. Ma c'è Marcellusi che sta facendo un ottimo lavoro. Qui a tenere alta l'andatura per Zanoncello. 7 km.7 alla conclusione. Ripresi adesso Wright e Steuben. Teniamo alta l'andatura sempre con Marcellusi per scoraggiare eventuali attacchi. Quindi continua il lavoro della Bardiani. Con Colnaghi abbiamo fatto punti di GPM. Quindi molto probabilmente al termine della tappa Colnaghi sarà leader della classifica Scalatori. Riparte Jasper Steuben. Bene così spreca un sacco di energie in questi attacchi a vuoto. Si muove anche Gianni Vermesh o Vermesh della Alpesin De Koenig. Ma Marcellusi continua a fare buona guardia. Attenzione perché abbiamo anche rotto per un attimo il gruppo. Proverei a dire a Marcellusi di accelerare un attimino. Vediamo. Perché per un attimo il gruppo si era spezzato. E dico a Fiorelli di venire in protezione di Zanoncello. Così ci ritroviamo Fiorelli qui davanti. Mancano 5 km. Ci avviciniamo al finale. Grande lavoro di Martin Marcellusi. E davanti ci sono Vermesh, Steuben e Legac. Ma la situazione per il momento è ancora sotto controllo. Ci siamo, ci siamo. Grande lavoro di Marcellusi. Parte un corridore della Boransgrohe. Ma poi si, rifermo. Occhio a Tim Vellens che lo vedo favorito su un arrivo del genere. Occhio anche a Hoyer Lascano. Ci siamo. C'è quello strappo in salita lì. Che inizia dopo sta curva a destra. Ecco, abbiamo preso il Mur de Bretagne qui davanti. Dico a tutti i nostri di seguire gli attacchi. Anche a Domenico Pozzovivo. Colnaghi può anche mollare, visto che è fuori classifica. E adesso ce la giochiamo qui. Sul Mur de Bretagne con l'accelerazione di Tim Vellens. Dobbiamo andargli assolutamente dietro. Con Zanoncello. Bene. Marcellusi però cosa fa? Rilancia? No, qua Marcellusi sta sbagliando. Non deve assolutamente rilanciare ma deve stare a ruota. Perché altrimenti qui andiamo in grosse difficoltà. Diamo il gel rosso a tutti i componenti del nostro team. Ci conviene andare piano per evitare ulteriori allunghi. Purtroppo c'è questo allungo adesso di questi corridori qui. Ma io voglio prendere tutto il gel rosso per fare una bella volata nel finale. Con Zanoncello. Allunga Zingle della Cofidis. Cerchiamo di prendere tutto il gel rosso per la volata finale. Bravo. Anche Pozzovivo che è qui davanti sulla nostra destra. Proviamo a risalire adesso. Ci siamo. Passiamo in mezzo. C'è anche Thibonis che ha una grande sparata. Dico a Pozzovivo di attaccare. Stesso discorso per Marcellusi e Fiorelli. E Colnaghi fa quel che può. Mancano 700 metri. Con Zanoncello siamo messi bene. Parte la volata dei nostri. Che in realtà non fanno altro che lanciarcela. Zanoncello arriva a doppia velocità. Però è piantato. Terzo posto. Vince forse Tish Beno o Lascano. Ma comunque teniamo la maglia gialla. Ottima tappa anche questa. Per il team Bardiani. Teniamo la maglia gialla ragazzi. Quindi va benissimo così. Allora vince Oyer Lascano. Secondo Beno. Terzo Zanoncello. Nono Marcellusi. Undicesimo Fiorelli. Dodicesimo Pozzovivo. Tutti con lo stesso tempo. Poi dopo la venticinquesima posizione c'è un bel buco. Quindi ottima prova della Bardiani. In classifica generale. Restiamo in testa. Con 16 secondi di vantaggio su Lascano. 20 secondi su Beno. Sono questi due uomini da parcare. Fiorelli rimane terzo. Pozzovivo 14esimo. Classifica scalatori. Colnaghi in testa. E cercheremo di rinforzare questa classifica nell'ultima tappa. Classifica punti. Zanoncello ha un vantaggio enorme. Tra l'altro sul nostro Colnaghi. Classifica giovani. Marcellusi è in classifica. E quarto. Anche se superare Lascano è difficile. Classifica squadra. E la Bardiani è in testa. Classifica combattività. Colnaghi è in testa. Bardiani che sale in dodicesima posizione. Perché ovviamente dopo la Milano Sanremo. Con tutte quelle corse dove non siamo stati invitati. Siamo scalati dal quarto posto al tredicesimo. Ma abbiamo già riguadagnato una posizione. Andiamo a giocarci la terza tappa. Anche qui andiamo in fuga con Colnaghi. E ci vediamo nel finale. 25 km alla conclusione. Momento critico per la Bardiani. Davanti c'è una fuga di 6. Con 1 minuto e 50 di vantaggio. Sono tutti buoni classifica. Tranne Mairoffer della Tudor. Che lì ha 50 secondi. E quindi con 1 minuto e 50. Virtualmente Maglia Gialle. Ci strapperebbe la classifica generale. Con noi sono rimasti con Zanoncello soltanto Pozzo Vivo. Gruppo ridottissimo. Composto da appena 22 corridori. Quindi situazione molto complessa. Per fortuna c'è la UE che tira un pochettino. Ma Sto Mairoffer ha una grandissima condizione. Quindi di sto passo sarò costretto a far lavorare Pozzo Vivo. Per fortuna il vantaggio adesso sotto il lavoro di Rui Oliveira. Sta calando 1 minuto e 20. E sono rimasti in 18 qui davanti. Quindi è uscita una selezione incredibile in questa tappa. Una selezione incredibile. Benissimo Zanoncello che sta dimostrando di essere un corridore molto forte. Abbiamo fatto bene a portare Pozzo Vivo perché tutti gli altri Fiorelli, Marcellusi non sono stati all'altezza della situazione. Mentre Pozzo Vivo nonostante una condizione non ottimale è ancora qui davanti. Rui Oliveira ci dà una grossa mano. Perché ci permette di tenere lì a 1,30 i corridori lì davanti. Ma di sto passo dovremmo fare entrare in azione Domenico Pozzo Vivo. Dobbiamo sacrificarlo per forza. Perché ho paura che quei corridori lì davanti non li prendiamo più. Qui l'Azcano va di un passo troppo tranquillo. Quindi devo dire a Pozzo Vivo di venire qui davanti. L'Azcano è il nostro avversario in classifica. Oddio. Fino a quando lavora l'Azcano però vedete tira il giusto. C'è ancora lui Oliveira qui davanti. Vediamo se arriva Pozzo Vivo a darci una mano perché la situazione inizia a diventare molto critica. Ed ecco Pozzo Vivo che però non tira. Sì per fortuna arriva adesso il Pozzo. Arriva anche Teuns. Però deve tirare più forte. Gli ho detto di tirare ma non va lì davanti. Vediamo. Non va in maniera convinta. Questo è un grosso problema. Non so veramente dove trovino le forze i corridori lì davanti che sono in fuga dalla mattinata. Ma vedo qualcosa di abbastanza impossibile. Eppure continuano a guadagnare. Il mio Colnager in fuga con loro non ha mai tirato, non gli ha mai dato un cambio e si è staccato. Ora c'è questa accelerazione dei Lidl Track ma il vantaggio non cala. Quindi dobbiamo sacrificare Pozzo Vivo che finalmente si decide ad andare qui davanti. Spero magari in un marcamento di quei sei lì ma non lo vedo. Non capisco perché Pozzo Vivo tirando al 100% poi si ferma. Dai Domenico. Sarebbe un peccato perdere questa Braidscap così. Pozzo Vivo tra l'altro è al limite. Quindi tra poco dovremo entrare in azione direttamente noi in prima persona con Zanoncello. Ora c'è questa curva a destra. Dai Domenico. L'ultimo sforzo per favore. 1,25 cala. Il vantaggio degli uomini in testa alla corsa. Ricordiamo che Myroffer è lì a 50 secondi. Parte Lascano che è un avversario diretto. Abbiamo il Gelo Rossa al Pozzo Vivo. Andiamo a marcare Lascano che in classifica generale è appena 10 secondi da Zanoncello. Andiamo sulla ruota di Hoyer Lascano e anche Team Valence. Lascano adesso insiste. Noi con Zanoncello siamo al limite. Intanto Ugo Page credo che ci strapperà la maglia della classifica scalatori. La vincerà lui. Ma poco importa. Qui abbiamo l'obiettivo più grande che è quello della classifica generale. Lascano si ferma. Myroffer così facendo ci strappa la maglia. Dobbiamo tirare. Mamma mia ce la stiamo giocando sul filo dei secondi. Qui nessuno ci dà una mano. Siamo costretti a tirare noi in prima persona con Zanoncello. Ma siamo al limite. Siamo al limite e nessuno ci dà una mano. Vediamo se Lascano va di nuovo davanti. No, si allaccia gli scarpini. Li vediamo lì davanti i fuggitivi. 42 secondi. Ce la stiamo giocando sul filo dei secondi questa Braidscap con Zanoncello. Spero Myroffer non vinca la volata e prende i secondi di buono. Il problema è che Myroffer è veloce ragazzi. Quindi potrebbe vincerla la volata. Ora c'è la discesa. Cerchiamo di guadagnare qui con Zanoncello qualcosa. E' uscita fuori una tappa durissima. Ugo Pasci sta andando a vincere la tappa. E questo è un bene perché togli i secondi di abbuono a Myroffer. Sono lì davanti. Abbiamo fatto anche un leggero buco. Con Zanoncello. E andiamo. Andiamo. Per il piazzamento ma anche per vincere questa Braidscap. Prendiamo tutto il gel rosso. Mancano 400 metri. Arrivano da dietro a doppia velocità. Ma dovremmo avercela fatta con Zanoncello. Aspettiamo il podio. Ragazzi, impresa. Difficoltà leggenda. Vincere la Braidscap con Labbardiani. E tanta roba. Purtroppo si stacca Domenico Pozzovivo. Ma l'abbiamo dovuto sacrificare nel finale. Vediamo se riesce ad arrivare con questi qui. Per comunque un piazzamento in top 15 magari. Che non sarebbe affatto male. C'è Teuns che è velocissimo. Quindi dovrebbe vincere abbastanza agevolmente la volata. Cerchiamo di tenere le ruote almeno di questi qui con Domenico Pozzovivo. Va bene, dai. L'importante è vincere la classifica generale. Andiamo a gustarci il podio. Aspettiamo l'ultimo corridore che è il Kazako-Gruzev. Abbiamo vinto sicuro la classifica a punti. Ma anche la generale secondo me. Scalatori l'ha vinta Hugo Pash. Arriva adesso Gruzev. Ci siamo. Questo va bene il replay finale. Vediamo, vediamo, vediamo. Ecco, Hugo Pash dell'Inter Marcea che vince la tappa. E Zanoncello vince la classifica generale. Dunque vinciamo la Braids Cup. La prima classifica generale della stagione. Abbiamo già vinto diverse tappe. Ci portiamo a casa anche una corsa a tappe. Zanoncello che vince anche la classifica a punti. E sto Zanoncello è un bel corridore. E no, con Colmaghi vinciamo anche la classifica a scalatori. Quindi non l'ha vinto Hugo Pash. Bene. Grandissimo. Portiamo a casa tre maglie e anche la classifica della combattività. Ho sbloccato anche un obiettivo. Vinci la Braids Cup. Alla fine Mayroffer ci ha messo in difficoltà. Perché guardiamo la classifica generale. Mayroffer è arrivato terzo a 19 secondi. Ha guadagnato 35 posizioni con questa fuga. Lascano seconda a 16 secondi. Pozzo vivo purtroppo scende in tredicesima posizione. Oddio, qua dice che guadagna una posizione. Comunque in top 15, bravo. Male Fiorelli, ma quando la corsa si è fatta dura i vari Fiorelli Marcellusi hanno dimostrato di non essere all'altezza della situazione. A differenza di Zanoncello che vince anche la classifica a punti. E Colmaghi vince la classifica a scalatori con gli stessi punti di Hugo Pash. Ma non so per quale motivo, forse per tipologia di GPM vinti è stata assegnata al nostro Colmaghi. Marcellusi sesto nella classifica a giovani. Classifica a squadre quarti. E Colmaghi vince la classifica della combattività. Dunque tanta roba questa Braids Cup per Labbardiani. Zanoncello è quattordicesimo nella classifica pro cycling individuale. Labbardiani sale all'undicesimo posto nella classifica pro cycling a squadre con ben 297 punti. Siamo sempre più lanciati verso il World Tour nella prossima stagione. Questo episodio ragazzi termina qui. Nel prossimo episodio giocheremo il Giro del Delfinato. Un appuntamento importante per la stagione della Labbardiani. Vi ricordo che gli abbonati al canale possono fare il ciclo mercato per questa serie sul Pro Team. Quindi se siete abbonati al canale indicate i corridori da prendere nella prossima stagione. O comunque se volete indicarli, se volete partecipare in questa serie potete abbonarvi al canale. La cifra simbolica di 0,99 è un modo per sostenermi. A me non resta che salutarvi. Ci vediamo sempre qui sul canale del ciclista anonimo per continuare questa serie e per altri contenuti come sempre dedicati al mondo del ciclismo. Ciao ragazzi! 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 Grazie a tutti.